Ciao a tutti, io sono Milena e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi parliamo di Bee Gees, gruppo musicale manese australiano composto dai fratelli Gib, Barry nato nel 1946 da gemelli Robin e Maurice, nati nel 1949 ma venuti a mancare rispettivamente nel 2012 e nel 2003, divenuti famosi grazie all'album Saturday Night Fever, scritto appositamente per il film Febbre del sabato sera, poi vedremo qualche canzone più famosa anche di questo album. Hanno preso ispirazione inizialmente dagli Everly Brothers e dagli Hollis, gruppi degli anni 50 e poi successivamente anche dal R&B e dal funk. Hanno ricevuto diversi ricordi conoscimenti, tra cui il Songwriters Hall of Fame nel 1994, il Rock and Roll Hall of Fame nel 1997 e il Vocal Group Hall of Fame nel 2001. E tra le 16 nomination ai Grammy ne hanno vinti 8. Ricordiamo anche qualche record dei Bee Gees. Hanno venduto 230 milioni di copie, se si pensa solo alle copie con il loro nome, mentre 270 milioni si considerano anche le canzoni e gli album scritti per altri artisti. Poi sono entrati nella prima posizione per sei singoli successivamente, in modo consecutivo, sia nella top 10 negli Stati Uniti sia in Gran Bretagna. Ricordiamo qualche canzone più famosa, tra cui Saturday Night Fever, che ha venduto 40 milioni di copie, tra cui appunto How Deep Is Your Love o Stay Alive Night Fever, oppure possiamo anche ricordare To Love Somebody, Night on Broadway. Il Bee Gees è un gruppo che io adoro, l'ho scoperto appunto grazie al film Febbre del Sabato Sera. Se vogliamo qualche curiosità, loro avevano appunto suonato fino al 2003, quindi fino alla morte di Maurice, che se non erro è venuto a mancare a causa di un attacco cardiaco o qualcosa del genere. Barry ultimamente, insomma, di recente aveva affermato che Maurice stava bene, quindi non è stata una malattia, diciamo, duratura o che se lo aspettavano, è stato improvviso, è tutta una cosa improvvisa, insomma, la sua morte e quindi lui e Robin, che erano rimasti ancora in vita, non se la sono sentiti di continuare a suonare senza di lui, soprattutto con il nome Bee Gees, perché i Bee Gees erano loro tre. Poi invece hanno deciso, mi sembra 5 o 6 anni dopo, di riprendere questo progetto che erano con i Bee Gees insieme, di continuare a suonare con i Bee Gees proprio in memoria di Maurice. Poi però hanno, anzi, Barry ha smesso di suonare per i Bee Gees a seguito della morte di Robin. A questo punto è rimasto purtroppo solo Barry in vita e quindi non avrebbe alcun senso continuare a suonare per i Bee Gees se è rimasto solo Barry. Sono completamente d'accordo, alla fine i Bee Gees sono solo loro tre. Tra l'altro, un'altra disgrazia c'è stata nella famiglia dei Bee Gees perché a seguito del loro trasferimento in Australia, la madre ha fatto un altro figlio, è nato appunto nel 1958, quindi molti anni dopo rispetto a Barry e i gemelli. Si pensa che è Robin e Maurizio sono del 49, quindi nove anni dopo la nascita dei gemelli è nato un quarto fratello che al momento, guarda, mi sfugge il nome e anche lui era cantante, anche lui era cantante. Però lui, nonostante sia stato il più giovane, è stato il primo a mancare, è morto a 30 anni, proprio a 30 anni nel 1988. Quindi è stata proprio una disgrazia, povero Barry è rimasto da solo perché aveva tre fratelli e sono morti tre fratelli. La morte in realtà del fratello più piccolo non è ancora chiara, cioè io non ho ben capito quale sia la causa, ho fatto alcune ricerche, diciamo quella più attendibile che in realtà non è stata neanche confermata, è stata una morte a causa di overdose e insomma delle droghe e così. Era molto bravo, era molto bravo lui a cantare e mi spiace che sia rimasto solo Barry perché poi Robin è anche stato male, è stato male, è morto mi sembra per un tumore nel 2012. Questo però Barry ha affermato che per la morte di Robin si è preparato di più, tra virgolette, che poi non si è mai pronti per la morte di un fratello in realtà, a differenza quella di Maurizio che è stata una morte più improvvisa. In realtà non so cosa dirvi, magari vi ho lasciato qualche spezzone di canzoni o qualche foto sopra impressione nel video mentre parlo e quindi vi consiglio prima di tutto di vedere il film Febbre del Sabato Sera perché bellissimo, io l'ho amato, è uno dei miei film preferiti e di ascoltare magari qualche canzone dei Bee Gees e farmi sapere giù nei commenti cosa ne pensate, se già li conoscevate, se potete aiutarmi a ricordarmi come si chiama il fratello più piccolo perché in questo momento mi sfugge e se avete qualche altra canzone da suggerirmi se volete o semplicemente lasciare un like se il video vi è piaciuto, iscrivervi al canale se non ancora lo avete fatto e siete interessati a questo progetto che è Bookshadow e di attivare la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima, ciao!